Parliamo invece della vicenda Nuove Acque, è arrivato il ritiro della querela da parte di Paolo Ricci. Questo intanto è un buon segno? È un buon segno, sicuramente è terminata una vicenda che ha fatto fare fatica un po' a tutti, è costata insomma un po' a tutti a livello proprio di investimento del tempo, delle emozioni, degli affetti, però purtroppo la verità paga sempre un caro prezzo. Sicuramente c'è stata in questo ritiro della querela anche da parte mia l'evidenziazione del fatto che le mie parole fossero rivolte a Nuove Acque, quindi all'azienda stessa piuttosto che al dottor Ricci in quanto persona, quindi tutto sommato è andata a finire bene. Ancora non abbiamo il verbale di Nuove Acque, però prossimamente io riandrò in azienda perché appunto a questo punto insomma tutta la legislazione, anche quella nuova che è stata appena attivata sulla questione della trasparenza, mi danno ulteriore supporto per cui quel verbale deve assolutamente divenire pubblico.